Era il maggio del 2020, quando Emilio e io ci siamo sentiti e abbiamo detto ma perché non proviamo a farlo insieme? Ognuno dei due stava coltivando con la sua giunta il progetto, stava cominciando a pensare ad una candidatura farlo insieme aveva un grande significato e rappresentava in quel momento un segnale ai nostri cittadini non sapevamo se la nostra proposta sarebbe stata accolta oppure no ma già solo il fatto di dire in quel momento vogliamo essere capitale italiana della cultura insieme e rappresentava un guardare avanti, un segnale di speranza poi la cosa ha avuto successo grazie innanzitutto ai nostri colleghi che sono stati i sindaci i primi a dare appoggio a questo progetto anche quelli che stavano autonomamente pensando a candidare la propria città hanno messo da parte quel proposito e hanno deciso di sostenere Bergamo e Brescia e quindi noi oggi abbiamo una grande possibilità che ovviamente nasce da quell'episodio perché se siamo stati disegnati al Parlamento sicuramente è perché siamo stati anche più colpiti dalla vicenda del Covid ma guardiamo al futuro, questo è un progetto che è pensato per il futuro